Non c'è un po' di rammarico per non essere magari parte, comunque per essere andato via presto dal Milan? No, assolutamente, ho fatto una strada diversa, rifarei tutto e si continua e si va avanti per arrivare al massimo. Sì, sono contento di questo gol, soprattutto per la squadra, ecco, perché oggi è una partita fondamentale, era con la nostra diretta concorrente e sono riuscito a strappare una bellissima partita fuori casa, che è importante. Ma il Milan ha cercato di fare la sua partita, abbiamo pensato più a noi, senza vedere il momento del Milan, abbiamo pensato di entrare forti in campo e chiuderla e portarla a casa. Ma tanto, insomma, il mistero ha creduto in me, ma mi ha fatto giocare e poi i risultati vengono con il lavoro di tutta la settimana e la crescita costante si vede. Ma non lo so, guarda, non so che pericolo c'è il Milan e cos'è, noi, come ho detto prima, pensiamo a noi, abbiamo pensato al nostro partito e a fare bene, poi l'altra squadra, ecco, la guardiamo poco.